Eh, signor sindaco, è con noi anche, la presento, il rosa della cecca di suolo paluccio di circostanza. Buono piacere, piacere mio, signor a lei è a casa, dovete stare a casa, a casa, dovete stare a casa. Non so più come fare a dire che dovete stare a terra. Siamo a casa, signor sindaco, siamo qui per il suo classico appello. Che fa? Sindaco, che sta facendo? L'acqua, l'acqua, bisogna bere, bisogna bere. Ah, quello non è il bicchiere dell'acqua. Ma cosa l'uva quella è? Un sorso ogni 5 minuti. Allora signor Rosa, lui è il sindaco, il signor Severino Briscola, è il sindaco di famosa cittadina Ciliegio sul Sandrio. E' una briscola lui. Allora, io non so più come dire che dovete stare a casa, capito? Lì e noi giriamo tutto il giorno, non hanno i cani, sa cosa fanno? Cosa fanno? In piazza eravamo da mangiare i piccioni. Cosa fanno? Cosa? Stanno da mangiare i piccioni. In piazza. I piccioni. E non si può, effettivamente non si può. E non si può. Fanno una spesa tre volte, dovete stare a casa. Io ho scritto il libro, state a casa, intelligentoni. Dovete stare a casa, capite? Non più come fare. Fra le spine nascono le rose. Questo è il detto di sé. Non posso dire il sindaco. A casa dovete stare, a casa dovete stare. A casa dovete stare. Certo, sì. Sì, perché fa? Sì, perché non può continuare a bere a casa, voglio dire? Noi promettiamo che non promettiamo promesse non promesse. Noi promettiamo le promesse, chiaro? È sì, limpido. Per stare dentro, dentro, noi per stare dentro. Cosa? Cosa, chi c'ha? Stai pagando l'amore. Stai nel caso di dentro della strada. Io non c'entro nella strada di casa, dovete stare a casa. Ah, gli sta urlando, signora, gli sta urlando dalla finestra, capito cosa sta facendo? Eh, ho sentito, ho sentito. Ho capito. Ma lei fa così con i cittadini? Non è il megafono, è un megafono o qualcosa. Vate in giro col megafono, signor sindaco. Il megafono è sull'auto. Dov'è? Su l'auto, c'è il megafono sull'auto. Ho capito, per me, dove deve stare? Scusate. Sindaco. 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 E' svenuto, signora, è svenuto, ha avuto un attimo un mancamento. Signor sindaco, va bene, la salutiamo, signor sindaco, al prossimo collegamento. Arrivederci di dieci. Comprate il libro, il libro, con gli stadi a casa, le leggete, le stadi a casa. Come va? L'andai già comprando per stare a casa. Chi si arriva a casa con la maggiore, maggiore. Salve, sindaco, la salutiamo. E' svenuto, signora, è svenuto. Va bene, ci scolleghiamo, signora, dal sindaco e se ne andiamo adesso a conoscere il famoso John Hopkins, signora della John Hopkins University, se la ricorda, no? La John Hopkins University, penso che lei che ha fatto la bidella, no?